benvenuti bentrovati appuntamento numero 41 con tutta bc extra rivivremo le emozioni del weekend con la prima gara importante stagionale sul nostro territorio poi ovviamente parleremo come sempre di triathlon sicurezza ma andremo anche alla presentazione di due team uno di mountain bike uno su strade molto altro ancora partiamo però proprio dalla prima gara di stagione per quel che riguarda il territorio italiano la prima la più importante quella che in buona sostanza dà il via ufficiale al ciclismo e alla sua nuova stagione quella 2019 si tratta del trofeo la igueia che riviviamo in questi tre minuti grazie a pmg sport dopo la partenza per i 136 corridori fuga di coberniac aen picco burchio masotto amadio ferrari poi nel finale fuga da parte di velasco in seguimento con montaguti altri atleti protagonisti in particolare ciccone che ha corso con la maglia della nazionale italiana nel finale hanno movimentato la corsa anche i ragazzi della ha gestito al comando questo atleta che festeggia la vittoria più importante il giorno più importante della carriera vediamo gli alfieri della squadra agé deserla mondiale hubert dupont e gli altri qui viene ripreso gabburo da alcuni corridori gabburo che faceva parte di un gruppo di immediati inseguitori franchini si è messo in bella evidenza nel finale imprendibile velasco si è messo in bella evidenza anche masotto che ha intascato preziosi punti per il gran premio della montagna questa è la coppia composta da franchini e da bagioli immediati inseguitori di velasco poi sono stati raggiunti anche da gavazzi e da altri corridori in seguito pure da sobrero terzo sull'ordine d'arrivo questa è la fase in cui gli immediati inseguitori diventano tre c'è anche il numero 54 il quasi 35 anni francesco gavazzi e sul lungomare simone velasco sul lungomare velasco va a vincere in questa fase c'è ciccone che viene ripreso ciccone che era immediato inseguitore questo è un veloce rimixaggio delle fasi principali del finale si batte il petto velasco che vince con 42 secondi di vantaggio c'è il replay da parte di pmg sport alessandro brambilla naturalmente ringrazia tutti gli sportivi ringrazia tutti gli spettatori primo velasco secondo a 42 secondi nicola bagioli terzo matteo sobrero quarto francesco gavazzi quinto nance peters sesto giulio ciccone settimo kilian franchini ottavo ildar arslanov nono franco abidard e poi a un minuto e 18 secondi decimo davide cimolai replay della regia per quanto riguarda la volata per la seconda posizione e qui vedete che sobrero col colpo di reni riesce a precedere gavazzi colpo di reni che i maestri della pista chiamano anche lo jump me lo diceva il grande antonio maspes applausi per lui si batte il petto vittoria di ciccone hanno abbandonato diversi corridori corsa dura corsa di 203 chilometri e 700 metri e dalla igueglia a verone al cosmo bike show che è andato in scena lo scorso weekend un paio di giornate dedicate come sempre al mondo degli appassionati del ciclismo durante le quali ci sono state numerose presentazioni di team su strada ed mtb noi andiamo a vederne soprattutto una di mountain bike ed è quella del team bike innovation gist focus grazie agli amici di mtb il team bike innovation è una squadra giovane che in pochi anni è cresciuta fino a ritagliarsi un posto di primo piano a livello nazionale ed internazionale a cosmo bike la fiera del ciclo di verona è stata presentata la formazione 2019 diretta come sempre da matteo baldissarri abbiamo iniziato nel 2013 siamo cresciuti tantissimo nicola trege il presidente della squadra insieme a gialuca salieri hanno creduto nel progetto della squadra elite in mountain bike abbiamo siamo cresciuti abbiamo fatto due anni veramente importanti quest'anno abbiamo messo dentro cristiano salerno che diciamo così nostro capitano non l'uomo di punta e giacomo berlato giacomo berlato conosciuto per la strada nella nippo fantini negli anni del giro d'italia l'uomo fuga ha fatto più chilometri in fuga quell'anno che in gruppo quindi sono sono molto fiducioso su giacomo siamo contenti iniziamo una stagione quindi con due atleti validi e i nostri tre juniors importante anche tirare sui giovani nella mountain bike che è il bacino poi per il futuro ma andiamo subito a conoscere gli atleti cristiano salerno sarà sicuramente una delle punte di diamante della formazione 2019 quest'anno si cambia squadra si cambia aria le motivazioni sono al cento per cento forse più e penso che uscirà fuori qualcosa di grande per me e per la squadra a che punto sai con la preparazione qual è la parte di stagione a cui miri di più ma quest'anno sono partito un po più tranquillo diciamo se così si può dire il club della stagione come sempre sarà maggio giugno luglio diciamo gli obiettivi sono più o meno sempre quelli un po dichiarati da tutti perché ovviamente il campionato italiano le classiche più belle che abbiamo qua come la Iro, la Dolomiti, l'Alta Valtellina e poi vabbè c'è sempre l'incognita del mondiale che quest'anno è sempre a settembre anzi verso la fine di settembre è una gara ovviamente che alla quale terrei particolarmente però ci pensano più avanti sempre che arrivi la convocazione l'altro atleta elite della formazione è il vicentino Giacomo Berlato fino allo scorso anno professionista su strada da quest'anno biker a tempo pieno ho fatto 20 anni su strada ho fatto 4 anni con una squadra professional che era la Nippo poi ho fatto un anno con le M7 Focus e adesso mi sono lanciato in questo mondo della mountain bike e quest'anno farò il primo vero anno da bikers quindi sarà per me tutto nuovo sono felice di essere qui con Bike Innovation con Focus che è veramente una grande squadra e sicuramente avrò la possibilità di crescere e di avere persone che mi insegnano il nuovo mondo sicuramente farò marathon e gran fondo e quest'anno dico la verità non ho proprio dei grandi obiettivi sicuramente gli obiettivi è di puntare a farmi vedere e riuscire anche a entrare su qualche bel podio ed erano immagini che arrivavano appunto dal Cosmo Bike Show la fiera ormai invernale dedicata al ciclismo l'altra estiva a distanza di sei mesi andrà in scena in questo 2019 la seconda edizione ma è stata sufficiente la prima farla diventare senza ombre dubbio la principale anche perché non è una vera e propria fiera ma un festival secondo il modello di quanto già si sta svolgendo in altri paesi europei è il festival Italian Bike Festival per la precisione che in questo 2019 si terrà sempre a Rimini le date già fissate 13, 14 e 15 settembre da lì ad una settimana ci sarà il grande weekend di Cervia per quel che riguarda invece il triathlon sapete che stiamo seguendo questo sport già da qualche settimana all'interno del nostro a tutta bc extra grazie all'amico Dario Nardone per tutti daddo ecco ancora allora una sua clip, una nuova clip video dedicata appunto al triplice sport ed in particolar modo a tutti quei personaggi di altri sport o dello spettacolo che si stanno avvicinando a questa disciplina oggi devo dire di grande moda il triathlon con Dando Nardone ormai lo si sente dire da tanto il triathlon è uno sport che va di moda diciamo che i triatleti un po' quelli più duri e puri non amano tanto questo modo di dire perché il triathlon è per uomini veri allora sfatiamo subito questi falsi miti perché è uno sport assolutamente adatto a chiunque ami nuotare, pedalare e correre il triathlon è anche benessere e ne parleremo sicuramente in questo caso quello di cui vogliamo parlarvi è del fatto che tanti personaggi famosi, sportivi ma non solo anche VIP o artisti hanno deciso negli ultimi anni di scegliere la strada del triathlon e di beneficiare appunto del benessere che si può avere avendo un tri-life avendo uno stile di vita basato sul triathlon e allora sicuramente si può cominciare da due star anche della tv parliamo allora di Joe Bastianich e Gordon Ramsay entrambi impegnati appunto in trasmissioni culinarie lo sappiamo Joe Bastianich, italo-americano che ha preso la sfida, si sono sfidati vicendevolmente con l'altro grande cuoco internazionale Gordon Ramsay, il diavolo in cucina e hanno gareggiato tanto negli ultimi anni anche sulle distanze più lunghe ma non solo, dimostrando proprio amore e passione per questo sport rimanendo negli UK un altro triatleta molto forte, molto conosciuto, diventato triatleta è Jenson Button, anche lui campione del mondo di Formula 1 un grande campione davvero che ha deciso negli ultimi anni appunto di dedicarsi anche lui con la volontà addirittura di diventare un professionista del triathlon diciamo che ancora non è riuscito al meglio in questo ma chissà, vedremo nei prossimi mesi, nelle prossime stagioni cosa riuscirà a fare questo grande campione per restare nel mondo della Formula 1 hanno strizzato l'occhio più di una volta al mondo del triathlon anche Fernando Alonso, Ray Conan, insomma grandi nomi che fanno della preparazione del triathlon un po' il loro stile di vita appunto perché sappiamo quanto sia impegnativo anche guidare dal punto di vista fisico una monoposto passiamo all'universo femminile e cominciamo ovviamente dalla nostra Justine Matera la showgirl che ormai da un paio di stagioni abbondanti innanzitutto ha sposato la causa della bicicletta e poi ha voluto implementare anche il triathlon con il suo sorriso e la sua vivacità ma soprattutto con una grande determinazione per prendersi il suo traguardo sulle distanze di sprint e olimpico con davvero una grande determinazione e una grande voglia di far fatica quindi questo davvero è stato molto bello poterla accogliere poter sentire anche la sua testimonianza da donna nel raccontare quanto il triathlon faccia stare bene abbiamo anche due nuovi ingressi che dovrebbero avvenire proprio in questa stagione con una grande attrice come Vanessa Incontrada anche lei showgirl e una cantante eccezionale che amo particolarmente ma è amata da tantissimo pubblico ovvero la rocker Gianna Nannini questo per quanto riguarda il mondo femminile ma ovviamente possiamo parlare ancora ulteriormente magari ritornando nel mondo sportivo di un Max Rosolino ha fatto la storia del nuoto italiano e non solo e adesso da un paio di stagioni si diletta col triathlon ovviamente la corsa è ancora lì che gli lascia un po' da fare ma per lui è un grande divertimento andiamo ovviamente siamo qui a tutta bici quindi parliamo anche di ex ciclisti allora Max Lelli che tutti conosciamo anche lui triatleta anche su distanze di un certo tipo Claudio Chiappucci che ha fatto un paio di triathlon uno in particolare in Sardegna che è rimasto nella storia perché è uscito a malapena dal nuoto poi ha fatto delle cose micidiali ovviamente in bicicletta e poi anche Marione Cipollini che si è prestato più di una volta per far parte di staffette importanti sempre nell'ambito di triathlon la chiusura di questo servizio dedicato ai personaggi del triathlon non può che parlare di lui, di Alex Zanardi un personaggio che amo particolarmente di cui mi fregio l'onore di essere amico e che realmente poi con la sua energia e la sua presenza sta dando davvero una grande boccata di ossigeno ovunque lui vada e quindi in particolare anche al mondo del triathlon ha scelto di entrare subito dalla porta principale ovvero l'Iron Man Hawaii ma poi è venuto a gareggiare anche tanto in Italia quindi a Pescara e poi l'anno scorso a Cervia dove è stato davvero accolto dal mondo intero questi sono i nostri personaggi ma ne vedremo sicuramente delle belle in questa stagione e dal triathlon al ciclismo torniamo ovviamente a quello su strada e torniamo anche ad una nuova presentazione anche questa si è svolta nel weekend riguarda il team Fausto Coppicorse di Fermignano siamo quindi nelle Marche un team piuttosto numeroso con ben nove maglie di campioni italiani per quel che riguarda la stagione 2018 che è stata evidentemente di grande successo e con il maggior numero di tricolore vestito appunto da ragazze da donne partecipanti a questo team per quel che riguarda l'intero panorama italiano nella presentazione della presentazione abbiamo selezionato in particolare due interviste quella al presidente del sodalizio marchigiano Walter Vitali che compiva nel giorno di questa presentazione tra l'altro i suoi primi 70 anni auguri anche da parte nostra e poi quello al team manager Loris Ducci con lui abbiamo parlato anche di due altre entità legate al team Mark & Bike e Servizi Gran Fondo Presidente, nel giorno del settantesimo compleanno arriva l'ennesima presentazione di un team che nel 2018 ha vinto tanto a livello femminile nessuno come questo team in Italia naturalmente tante soddisfazioni ma ora parte una nuova stagione Sì, posso essere non contento soddisfatto anche di più per quei risultati che i ragazzi hanno ottenuto con sacrifici anche perché, capisci, tutte le domeniche andare in giro fare gare qua, gare là, gran fondo insomma, ce l'hanno messo tanto e noi abbiamo cercato di sopportarli in il miglior modo possibile e tutti gli sforzi che abbiamo fatto ce l'hanno ripagati sono veramente soddisfatto specialmente delle nove maglie che abbiamo vinto la cronometro in particolare siamo partiti così proprio per sì, facciamo una passata ci proviamo alcune di loro non avevano mai fatto una cronometro dai, 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 andiamo andiamo a fare una passeggiata a Jesolo e poi tanto va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino e loro ci hanno lasciato proprio il segno proprio ci sono messi giù a testa bassa senza un allenamento senza niente addirittura dovevamo andare in pista qui a Fano per fare una prova arrivati lì ci hanno spento le luci e abbiamo fatto con le pile una zona industriale una prova così tanto per e andiamo andiamo ormai ben per notato andiamo su e i risultati li abbiamo riportati sono contento per loro perché specialmente alcune di loro la chicca Damiani che è il primo anno che fa veramente l'agonismo vincere un titolo così ha fatto seconda al master purtroppo per una caduta perché poteva aver vinto un'altra maglia e la Corini è un capitolo 6 la Corini comunque tutte quante si sono impegnate ritornando alla Corini la Corina quest'anno ricordiamoci ha vinto 14 medio fondo cioè non è poco insomma a lei è un capitolo a parte niente la squadra quest'anno veramente ha girato bene speriamo quest'anno di riproporci come quest'anno forse più forse meno non si sa l'appartito viene mangiando visto i risultati che abbiamo ottenuto l'anno le ragazze sono cariche 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 poi vanno a correre con una maglia tricolore addosso il peso della maglia e vediamo un po' fra un anno ci rivediamo qui e tiriamo le somme è la presentazione ufficiale inizia un'altra stagione dopo i grandi successi del 2018 al di là di quelle che possono essere le mire dei risultati resta comunque il lavoro che si fa per la grande famiglia del team Fausto Copicorso esatto siamo in conclusione di una giornata veramente speciale ci siamo divertiti abbiamo abbiamo raccontato un po' tutto quello che abbiamo fatto l'anno scorso ho lasciato qualcosa per dire non ho parlato delle maglie della nazionale che comunque i nostri atleti hanno portato con onore nelle prove svolte alle premondiali tra l'altro i campionati italiani ne abbiamo vinte di maglie 9 6 sono quelle del campionato italiano con uno squadre femminile 3 titoli italiani con Michela Gorini Lavinia Palazzo e Gianni Riccioni quindi abbiamo vinto nella categoria femminile 14 gran fondo anche di un certo livello abbiamo sfiorato per poco il titolo mondiale con Michela Gorini che ha fatto seconda per un soffio cosa dire mi accontento? No sinceramente no aspetto che il prossimo anno venga fuori qualcosa di meglio magari completiamo tutto con la maglia da campione del mondo sarebbe l'ideale ma soprattutto per le ragazze e gli stimoli anche per il prossimo futuro voglio ringraziare tutti gli sponsor oggi siamo veramente abbiamo fatto una presentazione decimata sia negli atleti che negli sponsor dovevano esserci circa 50 persone in più però purtroppo compreso me questo è un periodo veramente dove l'influenza ne ha fatte di tutte per quanto riguarda il team il prossimo anno partiremo con il Romagna Challenge e siamo abbonati lì siamo la squadra credo più numerosa al momento quindi cercheremo di riportare il bottino pieno se è possibile se non è possibile l'importante è che ci divertiamo e insieme insieme ai ragazzi sicuramente poi magari anche Roberto Ferroli che voi non lo vedete si è divertito tanto perché questi sono pazzi veramente pazzi e quindi niente cosa dire continueremo anche dal punto di vista diciamo solidarietà cercheremo di fare qualcosa insieme anche a Servizi Gran Fondo quindi con l'attività di Servizi Gran Fondo raccoglieremo dei fondi destinati all'Ilt piuttosto che Camerino per il terremoto quindi il progetto io non crollo quindi siamo in azione siamo attivi partiremo il 17 di marzo con la Gran Fondo di Faenza la Davide Cassani e poi a seguire la Gran Fondo del Po e poi vediamo cosa succede che dire non lo so si vedrà questa è l'attività del team Fausto Coppi Corse Fermignano citata parzialmente quella di Servizi Gran Fondo c'è una famiglia che fa da treni o di on tra i due che è quella di Marche Mbike dove in questo caso si parla della promozione di un territorio bellissimo e molto amato dai ciclisti prima è stato detto i ciclisti vengono da noi ma trovano il problema delle strade rovinate strade rovinate purtroppo si trovano un po' dappertutto anche in Romagna abbiamo avuto testimonianze simili addirittura da stranieri giunti a Cesenatico che dovrebbe essere in un qualche modo per Via della Nove Colli piuttosto che per la storia di Marco Pantani un territorio senza macchia e invece eppure c'è stato chi è passato lì una settimana poi tornando all'estero ha detto qui non metteremo più ruota si esatto allora io io dico la mia sicuramente oggi le amministrazioni come le regioni stesse stanno investendo qualcosa nel mondo del cicloturismo stanno investendo qualcosa perché ovviamente i fondi sono rimasti questi per questi progetti qui perché hanno capito dopo tanti anni dove chi è vicino allo sport lamentava grosse lacune dal punto di vista insomma diciamo strade strutture ricettive poco funzionali oggi oggi invece non so per quale motivo proprio ci sono le regioni che sembrano che hanno non lo so è il mio pensiero ovviamente ma credo che comunque sia così hanno capito che ci sono dei fondi che si possono prendere che poi spero che gli vada a investire nel modo giusto ovviamente la cosa principale qual è fare in modo che chi ha delle strutture ricettive si adegui anche ad avere un diciamo un vorrei dire un bike hotel o un country hotel qualcosa dove praticamente chi viene in bicicletta è tranquillo e sereno che ha uno spazio dedicato alla sua bici se l'ha in camera la deve portare con la sacca quindi sono tutti piccoli accorgimenti piccoli servizi che noi di Mark & Bike stiamo costruendo insieme a dei partner che sono strutture ricettive fidelizzate cioè queste strutture sanno esattamente che se chiamano il turista chiama il Mark & Bike e ci chiedono vogliamo andare in una struttura idonea che ci garantisce tutto quello che voi ci avete disegnato diciamo nel vostro sito noi siamo contenti non cerchiamo niente fate tutto voi l'obiettivo nostro è quello quindi di dare forza a quelle strutture che hanno che vogliono investire su questo progetto e vi dico anche che gli investimenti non sono chissà che cosa perché quasi prevalentemente i servizi li diamo noi e quindi siamo noi che ci mettiamo a disposizione delle strutture ricettive la struttura ricettiva deve far solo sì che il ciclista quando arriva vuole partire presto la mattina deve avere una colazione deve fare colazione quindi adeguare un pochino il suo status della struttura quindi sono cose semplicissime noi ovviamente partiremo con tantissime strutture qui nel territorio fino a fidelizzare quelle 7, 8, 10 strutture che veramente saranno in grado di ospitare il ciclista cioè il ciclista quando arriva si deve sentire bene questo è l'obiettivo e poi come sempre lo spazio alla sicurezza quello che è il vero ciclismo su strada cioè come muoversi nel traffico con tutto il codice stradale che è tra l'altro in fase di modifica sono state infatti fatte delle proposte in questo senso ora l'iter di legge dovrà eventualmente andare avanti quindi procedere nel frattempo però possiamo già commentare quelle che sono le proposte alcune delle quali decisamente innovative che forse neppure ci saremmo aspettati non ci tolgono importante sottolinearlo né nelle nostre vesti di ciclisti né di automobilisti dalla responsabilità di un utilizzo della sede stradale di grande responsabilità appunto di grande buonsenso di grande attenzione gli uni verso gli altri commenti a queste che ad oggi sono solo delle proposte di legge di modifica del codice della strada a cura dell'amico blogger Davide Petrini eccomi qua ragazzi per parlare con voi di quanto sta succedendo alla camera dei deputati non vi preoccupate non è un talk show politico ma parleremo delle norme che sono in discussione alla camera dei deputati e che riguardano noi ciclisti è notizia infatti di questi giorni che i deputati della camera della repubblica italiana stanno discutendo come modificare il codice della strada verso la mobilità sostenibile e per farlo stanno modificando alcune norme che ci riguardano di persona ragazzi noi siamo ciclisti noi siamo direttamente interessati alla modifica di questa norma noi dobbiamo informarci e dobbiamo farci sentire se le cose sono giuste o se sono sbagliate sembra che le prime indiscrezioni di questo testo abbiano dato disposizione per tutelare i ciclisti sulla strada obbligando gli automobilisti a dare sempre la precedenza ai ciclisti guardate questa è una norma molto efficace sulla carta ovviamente perché il ciclista sulla strada è sicuramente un protagonista debole non è protetto dalla scocca della macchina come l'automobilista non ha tutti i sistemi elettronici e di sicurezza che ha l'automobilista quindi il ciclista è nudo sulla sua bicicletta sulla strada avere una norma che obbliga l'automobilista a rispettare la precedenza del ciclista cioè a dare la precedenza al ciclista è sicuramente ottimo da qui ovviamente c'è da capire se gli automobilisti avranno la cultura diciamo così ciclistica per fermarsi quando vedono un ciclista che sta per entrare in strada un'altra proposta che troviamo tra le disposizioni è quella di togliere l'obbligo per i ciclisti di sostare incolonnati alle auto sia agli incroci che ai semafori con questa nuova proposta i ciclisti potranno arrivare in cima alla colonna sostare quindi sotto il semaforo e in prossimità dell'incrocio questo perché le amministrazioni comunali dovranno predisporre laddove ci sia lo spazio una zona di sosta adibita soltanto alle biciclette che ovviamente sono davanti a tutte le altre auto ma il provvedimento più contestato sarebbe quello che consentirebbe ai ciclisti di percorrere i tratti di strada anche contro mano cioè contro il senso di marcia laddove ovviamente il limite imposto dal codice della strada per i veicoli è inferiore ai 30 km orari e dove ovviamente ci sia spazio della carreggiata questo provvedimento a mio avviso è quello un pochino più difficile da attuare perché mandare un ciclista contro mano anche se in una strada dove il limite è molto basso si parla di limiti massimi di 30 km orari è pericoloso primo perché siamo in Italia dove non c'è cultura ciclistica secondo in Italia i tratti a 30 km orari molto spesso sono tratti di strada molto piccoli dove a volte passa soltanto una macchina con difficoltà riuscirebbe a passare quindi a scambiarsi un ciclista e una macchina inoltre far andare un ciclista contro mano aumenterebbe notevolmente secondo me l'odio che gli automobilisti hanno verso di noi verso i ciclisti quindi questa ultima norma secondo me è una norma che potrebbe ritorcersi contro a molti ciclisti sia per la sicurezza sia per quanto riguarda la loro reputazione la discussione però non si ferma qui perché è stato proposto addirittura di permettere ai ciclisti di pedalare nelle corsie dedicate ad autobus e taxi questo è sicuramente vantaggioso e positivo certo è che se ti viene addosso un autobus da 8 tonnellate ti fa sicuramente ti fa sicuramente male però è chiaro che se queste corsie sono soltanto sfruttate da autobus e da taxi è chiaro che in queste corsie il ciclista può muoversi più liberamente perché non c'è il traffico veicolare di una corsia normale inoltre è prevista anche la sosta e il parcheggio delle biciclette in zone riservate al camminamento dei pedoni quindi si allarga un po' di più l'abitat naturale del ciclista che da una parte invade un po' di più le corsie delle macchine e dall'altra invade un pochettino lo spazio dedicato ai pedoni infine la ciliegina sulla torta per la prima volta si parla di obbligo di indossare il casco per tutti i ciclisti sembra una sciocchezza perché per molti di noi ormai è naturale indossare il casco ma vi assicuro che si vedano molti ciclisti che non lo indossano quindi sarebbe bene che entrasse non soltanto come legge questa abitudine ma entrasse anche nelle nostre menti ogni qual volta montiamo su una bicicletta sia per passeggio sia per fare sport tutte queste proposte sono frutto di un copia in colla secondo me che arriva dai paesi del nord Europa dall'Olanda dal Belgio dall'Inghilterra dove c'è una vera e propria cultura della bicicletta vediamo se questo copia in colla riesce a trasformare la cultura dei ciclisti e degli automobilisti verso un movimento ciclistico più sano verso una mobilità sostenibile credo che non basti fare le leggi ci vorrà molto per educare sia i ciclisti che gli automobilisti magari con degli eventi di sensibilizzazione e quant'altro fatemi quindi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere se queste norme secondo voi possono aiutare la vita dei ciclisti e a far crescere la mobilità sostenibile ed era l'ultimo servizio per questo nostro appuntamento numero 41 con tutta bc extra vedete la sicurezza non manca mai la affronteremo a breve nelle prossime puntate anche sotto altri punti di vista nel frattempo ci siamo aggiornati su quanto potrebbe cambiare all'interno del nuovo codice stradale grazie per averci seguito appuntamento alla prossima settimana